GF VIP 7, Antonella Fiordelisi preferita del pubblico, Gwendalina Sbotta, uno scandalo. Vorrei che tutti sapessero che, nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri sera, Antonella Fiordelisi è stata la preferita del pubblico, dopo lo scherzo di Alfonso Signorini che ha fatto temere per un'eliminazione definitiva. Creando il panico fra i vipponi, ha annunciato la vittoria dell'influencer, che ha battuto Oriana Marzoli con il 45% dei voti. Un televoto che ha lasciato un po' l'amaro in bocca fra i telespettatori. In molti sono rimasti stupiti in quanto tutti i sondaggi sul web davano la venezuelana in vantaggio. Fra l'altro l'influencer campana in questo preciso momento non sembra riscuotere grandi simpatie nel pubblico. Su Twitter nel corso della diretta è andato in tendenza all'hashtag TelevotoTruccato. A esprimere le sue perplessità ha anche Gwendalina Tavassi che attraverso una storia Instagram ha gridato allo scandalo. Per poi definire Antonella Fiordelisi vittimella. Ragazzi è uno scandalo. Veramente una cosa scandalosa, vorrei solo dire ad Antonella che i suoi fan sono dei bot. Poveraccia, è convinta. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qua fuori tutti quanti schifiamo vittimella. Questa è la verità. Non quella che si è vista lì dentro. Si ce spun, știi, nimic nu mai e la fel. Copilaria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel, de fel, de oameni, de păreri, anti pur de caracter. Si văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai spus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, nau amut haba.